con l'entusiasmo delle origini verso nuovi orizzonti questo è il bel titolo molto emblematico del congresso della società italiana di nefrologia che ha posto al suo centro la malattia renale cronica una patologia nota come insufficienza renale cronica che colpisce tra il 7 e il 10% della popolazione ed è in continuo aumento tra le malattie croniche più diffuse e su cui però è abbastanza basso il livello chiamiamolo di consapevolezza in nefrologia per fortuna però stanno scendendo in campo nuove opportunità terapeutiche l'impiego della tecnologia ricerche di frontiera come sono state chiamate durante il congresso nel campo del trapianto renale di tutto ciò parliamo con il dottor Stefano Bianchi è il presidente della società italiana di nefrologia ed è direttore di nefrologia e dialisi di Cecina, Piombino e Elba siamo nell'azienda USL l'azienda sanitaria toscana nord-ovest il dottor Bianchi subito dopo la sigla sarà il nostro, il vostro ospite e salutiamo dunque il dottor Bianchi il presidente della società italiana di nefrologia buona giornata dottor Bianchi eccoci qua buona giornata a lei grazie per questa opportunità beh vale la pena che affrontiamo il tema della nefrologia perché si ha la sensazione che sia un terreno che può ancora riservare delle buone sorprese per chi fosse, ahimè, interessato al problema perché? perché quasi, ed è la prima domanda dottor Bianchi un italiano su dieci soffre di una malattia renale perché i problemi renali coinvolgono oggi una fetta importante della popolazione uomini e donne in ugual misura quali sono i motivi secondo lei? allora intanto il dato che lei ha portato è il dato forse più importante sul quale riflettere la malattia renale cronica è la più frequente malattia cronico degenerativa che si inserisce nel contesto più ampio delle cronicità delle malattie croniche poco meno di un italiano su dieci perché? perché per vari motivi i più importanti dei quali sono e che sono quelli relativi all'invecchiamento della popolazione la malattia renale cronica aumenta la sua prevalenza col passare degli anni i reni diventano vecchi come altri organi cioè vanno incontro a un naturale fenomeno di invecchiamento e poi perché si sono rese sempre maggiormente prevalenti alcune condizioni quali il diabete mellito l'ipertensione arteriosa le malattie cardiovascolari il sovrappeso l'obesità ed altre ancora che inducono con una elevata frequenza la comparsa di un danno renale per questi motivi e per altri ma questi sono probabilmente i motivi più importanti possiamo dire oggi quello che lei ha correttamente riferito poco meno di un italiano su dieci ha una malattia renale ma purtroppo mi viene da aggiungere nella maggior parte dei casi non è consapevole ecco questo è il punto ed è la seconda domanda dottor Bianchi perché evidentemente la non consapevolezza dipende da tanti fattori e quindi ecco che prevenzione e diagnosi precoce che sappiamo essere da sempre temi fondamentali per tutte le patologie ecco che sono messi un poco a rischio perché non si fa né l'una né l'altra o si fa poco o sbaglio non si fa non è corretto si fa ancora abbastanza poco i motivi della scarsa consapevolezza che si ha a livello di popolazione ma direi anche a livello di dei professionisti medici della malattia renale mi verrebbe quasi da dire è una relativa colpa della malattia renale le malattie renali croniche sono malattie silenziose il rene è un organo silenzioso è un organo che non grida è un organo che non induce nelle fasi iniziali di malattia sintomi importanti quelli che portano dal medico e che permettono quindi il riconoscimento di malattia silenziosa fino spesso alle fasi più evolute di malattia questi organi straordinari hanno la la capacità di mantenerci ancora in condizioni relativamente buone di salute fino a quando la funzione del rene non è ridotta al 15-20% della sua funzione normale il problema è che quando noi in fase avanzata poi facciamo diagnosi di malattia renale spesso è tardi per mettere in atto terapie in grado di rallentarne la progressione spesso è necessario ricorrere al contrario a terapie complesse di forte impegno di forte impatto quali la dialisi e il trapianto renale di forte impegno di impatto per i pazienti per i familiari per i medici che si prendono cura dei pazienti e di forte impegno per il nostro sistema sanitario nazionale che destina alla dialisi al trapianto il 3,5% almeno dell'intero suo finanziamento cioè il nostro sistema sanitario nazionale investe il fino al 4% delle sue risorse per trattare una popolazione relativamente piccola di pazienti dobbiamo invertire rotta dobbiamo girare la testa e dobbiamo impegnarci su programmi di prevenzione primaria e secondaria della malattia renale cioè dobbiamo cercare di far sì che i nostri reni rimangano in salute la prevenzione primaria o quando i nostri reni hanno perso un po' di salute dobbiamo diagnosticare la malattia nelle fasi precoci perché oggi lei lo ricordava ci sono straordinarie opportunità terapeutiche che si aggiungono alle altre già presenti in passato che ci permettono di rallentare la progressione della malattia impedire o rallentare l'evoluzione verso la dialisi del trapianto ridurre l'incidenza di venti cardiovascolari che sono una dei grandi problemi della malattia renale cronica ed altre complicanze quindi abbiamo a disposizione tanti strumenti ma per metterli in atto dobbiamo identificare la malattia nelle sue fasi più precoci chiarissimo quindi il fatto che la malattia sia appunto lei ha detto silenziosa aggiungiamo un altro aggettivo che fa paura in medicina ed è subdola perché essere subdoli vuol dire essere poi pericolosi se si avanza infatti voi avete fatto un appello ben preciso nel vostro congresso ma ci torniamo però lei ha detto due cose importantissime dottor Bianchi intanto mi congratulo per la franca comunicazione molto chiara che da buon toscano sta edargendo in questa pubblicazione non è di tutti mi creda lei è bravissima ha parlato di come mantenere i reni in salute come fare a mantenere i reni in salute perché quell'essere subdoli significa che quando arrivano i sintomi ecco che la funzione renale è già di molto ridotta se ho capito bene no lei ha capito benissimo allora mantenere i reni in salute significa mettere in atto tutto quanto è possibile mettere in atto per impedire che si ammalino e qua le misure sono molto simili se non assolutamente coincidenti con le misure che si devono mettere in atto per mantenere il nostro organismo in salute e quindi una dieta adeguata noi abbiamo in Italia la fortuna straordinaria di poter seguire quella che si chiama dieta mediterranea che è diventata un esempio nel mondo di dieta salubre o salubre come forse meglio sarebbe opportuno da toscano deve dire salubre dottor Bianchi io da toscano devo dire salubre perfetto allora una dieta equilibrata una dieta che non contenga una quantità eccessiva di grassi animali e di proteine una dieta che sia equilibrata nell'introito di sale la dieta mediterranea è un tesoro che noi dobbiamo non solo salvaguardare ma perseguire nei nostri comportamenti quotidiani poi un'adeguata introduzione di acqua una attività fisica che deve essere messa in atto a tutte le età naturalmente tenendo presente quello che è il criterio anagrafico e di eventuali malattie che possono essere presenti ma non si deve nei limiti del possibile essere sedentari non si parli di accendere mai una sigaretta stenzione completa dal fumo di sigaretta perché il fumo fa male a tanti organi ma fa male anche al rene attenzione a un consumo non orientato dal medico e quindi da un'indicazione clinica di farmaci che hanno potenzialmente la possibilità di danneggiare i nostri reni guardi io penso in questo momento ai farmaci antiflogistici non steroidei cioè ai farmaci antidolorifici che ormai divenuti farmaci da banco possono essere acquistati senza ricetta medica sono farmaci farmaci importanti che hanno delle indicazioni precise ma che non debbono essere assunti al primo piccolo mal di testa o al primo piccolo dolore a una spalla o a un piede e con questi altri quindi questi sono criteri molto semplici sembrano i criteri della nonna ma sono i criteri che sostanzialmente possono mantenere i nostri reni in salute poi quando i nostri reni si ammalano abbiamo detto in maniera silenziosa in maniera subdola la malattia dobbiamo cercarla dobbiamo cercarla significa che dobbiamo andare ad effettuare soprattutto nelle popolazioni a rischio di sviluppare una malattia renale ripeto i diabetici di pertesi di obesi che ha una malattia cardiovascolare che ha familiarità per una malattia renale dobbiamo andare ad eseguire degli esami semplicissimi poco costosi che si possono effettuare ovunque e che nel giro di pochissime ore possono dirci se i nostri reni hanno un problema non possono far diagnosi ma possono dirci i tuoi reni sono a posto i tuoi reni hanno bisogno di attenzione medica basta un prelievo del sangue è semplicissimo la determinazione della creatinina e quindi della funzione renale stimata un esame urine con il dosaggio dell'albumina urinaria per sapere se i nostri reni stanno bene oppure se i nostri reni richiedono attenzione questi esami semplicissimi sono la chiave di volta per poter individuare in fase precoce la malattia che ripetiamo non ci dà non grida non ci dà segnali di allarme e questi esami devono essere effettuati e devono essere effettuati a livello della medicina generale che rimane un pilastro nella identificazione della malattia renale devono essere eseguiti da tutti i medici specialisti che vedono la malattia renale in fase precoce vede paradossalmente il nefrologo vede la malattia renale in fase evoluta e quindi il nefrologo deve dire deve collaborare con i colleghi che vedono la malattia renale in fase precoce e dire loro e stabilire con loro dei programmi dei protocolli per poter effettuare questi esami ed evidenziare la presenza di una malattia renale guardi ci sarà una novità nel 2024 questi esami potremo anche farli in farmacia ma questo è un argomento che magari riguarderà un altro un altro momento di incontro che potremo sì ma senza alcun dubbio senza alcun dubbio senza dottor Bianchi per questo voi avete detto a proposito di questi esami veramente semplici sottolineo mettendomi in prima persona perché li ho fatti un mese fa e quindi convinto di farli ma se non ero sollecitato non l'avrei mai fatto voi chiedete che vengono fatti in maniera sistemica e queste parole che lei ha enunciato lo chiariscono molto però quando noi leggiamo dottor Bianchi malattie renali nuove terapie tecnologie che rivoluzionano le cure e l'annuncio fatto dalla società che lei presiede beh capisce che proprio per tutto ciò che stiamo dicendo siamo curiosi di capire e di sapere qualcosa di più dunque quali sono queste nuove opportunità terapeutiche per il contrasto della progressione del danno renale devo dirle che io non non mi sarei mai immaginato nella mia lunga vita di medico e di nefrologo di poter vivere un momento così così esaltante qualcuno lo definisce addirittura rivoluzionario per la nefrologia negli ultimi anni si sono rese disponibili terapie che il nostro sistema sanitario eroga in regime di rimborsabilità che hanno dimostrato un ottimo profilo di sicurezza e soprattutto una grande efficacia nel proteggere il rene dalla progressione di malattia e nello stesso tempo di proteggere anche il cuore delle donne e degli uomini che hanno una malattia renale quindi abbiamo oggi a disposizione svariate terapie non una che offrono a chi ha una malattia renale delle opportunità terapeutiche guardi impensabili fino a dieci anni fa ma difficilmente immaginabili ancora cinque anni fa stiamo vivendo un momento di straordinaria vivacità dal punto di vista delle opportunità terapeutiche in ambito neurologico ma torno al punto di partenza se io ho lo strumento ma non riesco a identificare l'oggetto nel quale devo metterlo in atto e non non posso essere contento quindi diagnosi precoce significa possibilità di aiutare oggi in maniera importante chi ha una malattia renale a convivere con la malattia a tenerla ferma a tenerla buona si direbbe in Toscana e a rallentare sempre di più l'evoluzione verso gli stadi evoluti un motto della nostra società è sogniamo un mondo senza dialisi ora io sono certo che non vedrò un mondo senza dialisi perché la mia età non mi permetterà di vederlo ma i giovani nefrologi i giovani medici vedranno un mondo con sempre meno dialisi e questo senza accennare poi alle straordinarie opportunità terapeutiche di approccio a malattie rare in nefrologia fino a ieri orfane e che oggi non lo sono più le straordinarie opportunità terapeutiche che abbiamo oggi di trattare il paziente che va al trapianto renale con terapie immunosoppressive sempre più sicure e con un profilo di sicurezza sempre maggiore stiamo vivendo un momento straordinario e la nefrologia è fortemente determinata a viverlo partendo da quel motto che lei ha ricordato dall'entusiasmo delle origini verso nuove sfide perché è solo con la consapevolezza di quanto ci è stato dato dai nostri maestri dai padri fondatori della nefrologia che possiamo trovare quella forza per guardare al futuro con grande ottimismo e con grande soddisfazione sempre per i nostri pazienti per l'unico oggetto della nostra attività della nostra cura tanto è vero dottor Bianchi che al di là dei farmaci magari quando sarà il momento ne parleremo meglio lo approfondiremo meglio questa cosa che ci ha ventilato per il 2024 torneremo a parlarne con lei se sarà disponibile però vedo che voi citate anche l'impiego delle tecnologie di cui oggi tutti stanno parlando telemedicina da un lato addirittura intelligenza artificiale dall'altro nella pratica clinica in nefrologia e questa è la cosa importante se permette dottor Bianchi che sottolineo ed è una sottolineatura che mi fa piacere di dire da giornalista che segue la medicina e la salute da molti anni che avviene in varie aree finalmente la declinazione pratica nella clinica beh in nefrologia intelligenza artificiale oltre che telemedicina cosa potrà significare? Guardi le chiedo il permesso di dire due cose sulla telemedicina la nefrologia ben prima che il covid ci in qualche maniera obbligasse a ricorrere alla telemedicina per tenere i pazienti il più possibile lontano dagli ospedali aveva già messo in atto forme di assistenza a distanza dei pazienti forme di teleassistenza al paziente in dialisi a domicilio perché questa è un'opportunità straordinaria e quindi il covid non ci ha trovato impreparati e il futuro offre per la telemedicina in ambito nefrologico delle opportunità incredibili non solo per ottimizzare la domiciliarizzazione della dialisi ma anche per mantenere a domicilio i pazienti che hanno una malattia renale cronica ai quali possiamo evitare di venire in ospedale con elevata frequenza con benefici enormi per i pazienti spesso anziani e per il nostro sistema sanitario nazionale l'intelligenza artificiale è un argomento un argomento diciamo così importantissimo in ambiti diversi in ambito sanitario lo è in maniera particolare diciamo siamo agli albori della possibilità di vederne un'applicazione clinica ma già adesso ad esempio nella gestione dei dati quindi dati i grandi database l'intelligenza artificiale ci sta fornendo un'opportunità rilevante non ancora probabilmente applicata poi ad aspetti che riguardano la presa in carico del paziente l'ottimizzazione dei percorsi diagnosi psicoterapeutici ma qua soprattutto per i giovani medici e per i giovani nefrologi si apre ancora un futuro mi faccia dire roseo un futuro improntato all'entusiasmo delle radici che guarda al futuro beh non ci rimane per concludere le chiedo soltanto un ultimo commento l'abbiamo citato di striscio ma nel campo del trapianto renale è sempre quando si parla di trapianto renale c'è sempre emozione un minimo di timore eccetera ecco la ricerca in quel campo sta avanzando dottor Bianchi la ricerca in questo ambito sta avanzando al punto che è difficile stare dietro alla ricerca il trapianto renale è la prima opzione terapeutica nel paziente che raggiunge la fase finale di malattia renale in particolare il trapianto da vivente un aspetto che in Italia abbiamo già messo in atto ma che deve trovare con maggior forza un'applicabilità in ambito clinico è possibile donare è possibile donare e donando non solo rimanere in salute ma probabilmente vivere più a lungo di chi non dona quindi c'è oggi l'opportunità di mettere in atto uno straordinario atto d'amore che è quello del dono di un organo ad una persona cara con una qualità di vita che probabilmente è addirittura migliore di chi non dona la nostra rete trapiantologica è di eccellente qualità dobbiamo ancora ottimizzarne ottimizzarla da un punto di vista quantitativo non riusciamo ancora a star dietro alle domande di inserimento in lista di trapianto renale ma anche in quest'ambito io continuo a vedere il futuro come un futuro che ci darà delle grandi soddisfazioni non so come dire grazie a Stefano Bianchi presidente della società italiana di nefrologia e ricordo essere direttore fortunatico i pazienti di nefrologia e dialisi di Cecina Piombino e Delba siamo nell'azienda USL vuol dire unità sanitaria locale se non sbaglio sì sì azienda sanitaria locale Toscana nord ovest io sono nel Veneto dove non abbiamo la USL ma abbiamo l'unità sociosanitaria locale siamo in Toscana nord ovest davvero dottor Bianchi è stato un piacere fare la sua conoscenza mi fa piacere aver insistito e aver ottenuto di poterla avere ospite e ne valsa la pena ma torneremo a parlare con lei delle novità le avesse lei ci chiami vedessi io l'opportunità sa che la disturberò ancora adesso che abbiamo visto che la connessione è facile e che si può fare buon lavoro buon lavoro di cuore grazie grazie ricambio arrivederci arrivederci grazie